Il mondo dello spettacolo è sicuramente uno dei settori più colpiti dalla crisi dovuta al coronavirus, vista l'impossibilità a svolgere gli eventi, che si prolungherà ancora, almeno per quelli al chiuso, anche per l'assembramento che si crea ogni qualvolta. Al momento è tutto fermo e a tal proposito sono intervenuti in diretta su Cilento Channel quattro attori e direttori artistici per parlare della situazione che sta vivendo il settore. Tiziana Di Giacomo, Pierluigi Orio, Vincenzo Darco e Nicola Kunso, parlamentare oltre che attore. L'interrogativo che si pone l'attrice Tiziana Di Giacomo è riguardo ai costi da sostenere. Ci vogliono sicuramente delle sovvenzioni da parte dello Stato all'attore stesso perché ci saranno sicuramente attori che non lavoreranno per il 2020. L'unica soluzione è dare un reddito a quelli che non stanno lavorando. Pierluigi Orio, direttore artistico del Cineteatro De Filippo di Agropoli, spera nel futuro, consapevole della situazione per nulla favorevole. Siamo stati i primi ad essere chiusi e purtroppo saremo gli ultimi a riaprire proprio perché i nostri luoghi hanno bisogno dell'assembramento. Spero che quando si potrà riprendere si tornerà a rivivere dal vivo l'arte dello spettacolo teatrale. L'attore Vincenzo Darco parla di riforma teatrale, un cambiamento quasi totale. Bisogna cercare di individuare i nostri aiuti economici ma per fare questo andrebbe usato questo tempo per fare una vera riforma teatrale. Per fortuna gli artisti si stanno organizzando per cercare di capire cosa dovrà essere cambiato. Potremmo riaprire i teatri o i piccoli centri con l'ausilio dell'attore che potrebbe dare un piccolo contributo facendo un'opera sociale. In chiusura interviene anche Nicola Kunso, attore ma anche parlamentare. Posso comprendere questo sentimento di paura facendo parte dell'ambito teatrale. Mi sento di rappresentare una speranza da questo punto di vista. Comprendo il lavoro che stanno facendo le istituzioni. Inizieremo a capire cosa sarà del nostro futuro in cui probabilmente ci dovrà essere un solo artista sul palco per evitare i vari assembramenti. Bisognerà riappropriarci del nostro mestiere. Rispettando il distanziamento forse riusciremo a ripartire. Verranno portati gli spettatori sulle nuove piattaforme ma lo spettacolo dal vivo è tutta un'altra cosa.